Nuova puntata della nostra playlist spiegato da Flavio. Io sono Flavio Cavalli, responsabile del training europeo in Xiaomi ed oggi sono qui per parlarvi di due aspetti fondamentali del nuovo Mi 11 5G, il processore e la batteria. Avete già visto gli altri video? Beh intanto cominciamo con questo. Come avrete ben capito Mi 11 5G nasconde sotto la carrozzeria il miglior processore di Qualcomm presente oggi sul mercato, Snapdragon 888. Ma perché il processore è così importante sui nostri smartphone? E' proprio grazie a lui che possiamo navigare alla miglior velocità in 5G, aprire rapidamente tutte le nostre app, giocare in maniera fluida ai migliori titoli e scattare foto incredibili, in cui l'intelligenza artificiale gioca un ruolo fondamentale. 80% di prestazioni migliorate rispetto alla generazione precedente, per un'esperienza multimediale esclusiva. Un miglioramento del 70% sui processi di intelligenza artificiale per scatti unici, in cui l'intelligenza artificiale agisce come un fotografo e videomaker professionista che fa il lavoro sporco al nostro posto. Una GPU Adreno 660 che migliora le performance di gioco del 35% introducendo il 2K, l'HDR e i 120 frame al secondo. Grad di performance, ma attenzione ai consumi. Quest'anno, a differenza di altri brand, abbiamo scelto un chipset che integra processore e modem 5G, così da migliorare la velocità e la stabilità di connessione senza incidere negativamente sull'efficienza energetica. Non dimentichiamoci poi del WiFi 6, che garantisce download fino a 2 volte più veloci rispetto al protocollo precedente. Come sempre Xiaomi pone grande attenzione a tutte le componenti hardware con cui realizza i propri smartphone. Ultima generazione di memoria RAM LPDDR5 per aprire in un lampo le nostre app preferite risparmiando batteria. Ultimo punto caro a tutti noi utilizzatori di smartphone. L'autonomia. Con una ricarica cablata da ben 55 Watt, una ricarica wireless da 50 Watt ed ha anche la possibilità di ricaricare un altro dispositivo wireless a 10 Watt, il vostro nuovo Mi 11 5G non si spegnerà sul più bello. Immortalate l'istante migliore, registrate il video della vostra vita, giocate la partita fino in fondo senza preoccuparvi dell'autonomia residua. E quando la batteria va giù, soli 43 minuti in ricarica cablata e 53 minuti wireless. Perché le sorprese non finiscono qui? Come sempre Xiaomi è vicina a propri fan ed anche quest'anno include nella confezione il nuovissimo caricatore con tecnologia GAN. Ricapitolando, processore Qualcomm Snapdragon 888 con tecnologia di elaborazione a 5 nanometri per la massima velocità, connettività in 5G dual standby e miglioramenti per il supporto della doppia curva Bluetooth e Wi-Fi 6. E ancora, una batteria esagerata, ben 4600 mAh con tante opzioni di ricarica ultraveloce. 55W in ricarica cablata, 50W in ricarica wireless e 10W di ricarica inversa. Questa è l'innovazione di Xiaomi. Questo è Mi 11 Movie Magic. Alla prossima!